E allora amici di Calciopazzo parliamo di questa Inter, l'Inter di Antonio Conte che non sta andando benissimo in Champions e sarà difficile passare il girone ma sta andando molto molto bene in campionato, ha un solo punto dalla Juventus al campione d'Italia e esprime delle caratteristiche ben precise oltre l'aggressività che tutti sappiamo, le verticalizzazioni che tutti conosciamo di Antonio Conte, c'è un dato che l'Inter da quando è iniziata la stagione ufficiale sia in campionato sia in Champions ha sempre sempre segnato anche quando ha perso e quindi la domanda sorge spontanea, ma se ci fossero stati, perché diciamo ci sono due scuole di pensiero, ma se ci fossero stati in questa formazione Nainggolan, Icardi, magari lo stesso Perisic che comunque sta disputando un buon campionato col Bayern Monaco, chi altro era? Gabigol, si arriva a dire anche Gabigol che comunque sta facendo cose pazzesche al Flamengo e tra l'altro si va a giocare la Libertadores, sarebbe stato un Inter sicuramente superiore e Conte magari avrebbe fatto meno il pianto perché aveva più possibilità di ricambino, però c'è anche un altro discorso da fare che probabilmente in questo momento si soffre un pochino perché giustamente mancano degli elementi eccetera, è stata fatta una campagna acquisti ottima però sotto il profilo di mettere le ciliegine un po' approssimativa qualcosina ancora manca, però c'è da fare un discorso che tutti questi giocatori che stanno in giro prestati, i vari Gabigol che ormai praticamente è già venduto, Rajan Nainggolan che comunque se continua a segnare con questa, a segnare e a disputare grandi prestazioni così il suo cartellino sale ed eventualmente poi gli acquirenti si fionderanno per comprarlo o eventualmente non so se il Cagliere vuole presentare, se ha disponibilità di presentare un'offerta per trattenerlo, lo stesso Perisic penso che rimarra, Icardi, Icardi ragazzi sta andando benissimo al paio di St. Germain e la sua quotazione più o meno si aggira intorno ai 70 milioni, e anche quelli sono Joao Mario, Joao Mario comunque anche sta disputando un'ottima stagione in Russia e quindi alla fine tutti questi giocatori che più o meno sono Gabigol, Peisic, Icardi, Nainggolan e Joao Mario sono 5, nel computo generale andando a sommare fanno più o meno 150 milioni che entrerebbero nelle casse dell'Inter da poter investire per o due top player o un giocatore pazzesco, non lo so, i nomi che si fanno sono tanti e quindi sicuramente possiamo dire che il futuro dell'Inter è roseo dal punto di vista, quindi Conte deve pazientare un pochino, stringere un po' i denti, cercare di metterci del suo per arrivare almeno fino a gennaio e poi credo che gli investimenti da gennaio a poi la campagna acquisti successiva saranno pesanti, saranno importanti e porteranno l'Inter sicuramente a diventare se non la prima forza del campionato comunque a giocarsi lo scudetto con la Juve fino alla fine come credo peraltro che farà anche in questa stagione vi auguro una buona giornata, un saluto e sempre Caccio Paccio 2